Buonasera, buonasera amici miei, abbiamo visto un'altra partitella, no? Abbiamo visto un'altra partitella, partitella fatta di schemi codificati. Allora, voglio fare subito una premessa. L'allenatore conta parecchio, massimo un 30% in una squadra. Nelle grandi squadre conta massimo il 30%, il resto lo fanno i giocatori. Con questo cosa voglio dire? Che siccome è uno scartavetramento, è una rottura di palle ogni volta ormai quando giri sul web di sciogliere numeri, di prendere numeri di slide a gioco fermo. Pensate che le slide a gioco fermo, gli allenatori le prendono il giusto per far vedere il movimento, però nel calcio poi c'è la rincorsa, c'è chi il passaggio lo fa un secondo dopo, chi un secondo prima, se c'è un rimpallo, se la palla va veloce o va lenta, perciò le slide, i fotoritratti, la fotografia di quel momento in quell'azione, contano veramente una beata minchia. Ancora di più per questo tipo di squadra, perché poi ci sono i fatti, ci sono i fatti che sono quelle che c'è l'outsider come il Borussia Dortmund, si poteva stare l'Inter, si poteva stare l'Atletico Madrid, che sono più o meno allo stesso livello, ma c'è il Borussia Dortmund. Poi in fondo alle competizioni che contano arrivano le squadre piene, zeppe, con molti giocatori. Se facciamo il paragono alla Juve, di questa Juve quanti avrebbero giocato questa partita? Bremer sicuramente, perché vedendo Kim, che ha fatto una prestazione non buona, ma potrebbe giocare tranquillamente in difesa del Bayern, se sta bene fisicamente può giocare il Rabiot, soprattutto nel Bayern, ma secondo me non lo disdegnerebbe nemmeno Ancelotti, ve lo posso garantire, visto che è un giocatore scarso, e magari Tech potrebbe giocare, visto che non c'è Courtois, a titolare al posto dei Luni nel Real Madrid, perché dall'altra parte c'è Neuer, che anche oggi ha dimostrato quel che è da portiere. Però voglio dire che il calcio resta sempre dei calciatori, perché oggi c'è stato Sane, che fa un gol in solitaria, Vinicius che fa un gol con un passaggio illuminante di cross, dove voi pensate un po' il nostro tifo tossico, quando lo davano come suggestione, parametro zero, poi rinnoverà perché non è un coglione Ancelotti, rinnoverà con la 3 del Madrid, perché ha detto subito non c'è nemmeno motivo di parlarne di cross, della prestazione di cross, lo fa rinnovare con il Real Madrid. Voi pensate che c'erano tifosi della Juve, che cazzo facciamo? Il progetto? I giovani? Questo ha già 34 anni. E lì capisci che di calcio ormai non si parla più, di campo non si parla più, snocciolano numeri che è una meraviglia. Io i numeri non li guardo, guardo le partite, cerco di guardarle, cerco di farmi un pensiero, con umiltà, però mi guardo, fisso le partite sul rettangolo verde, che non è quello della PlayStation, anche se il colore è uguale, o quello di Football Manager. La palla di cross, la palla di Modric, sempre entrambe per Vinicius, il rigore che ha preso il Real Madrid. Ditemi se qualcuno si aspettava potesse essere un'azione pericolosa. Hanno nascosto la palla e è andato il rigore. Entrata in ritardo di Kim, il rigore. Dove sembrava che il Bayern stava rintronando, che sicuramente meritava forse qualcosa in più del Real Madrid. Ma così non è stato. Perché ancora di più il Real Madrid rispetto al Bayern Monaco ha molti più campioni, ha molta più gente di qualità. Dalla panchina arriva Modric, arriva Ibran Dias, arrivano giocatori eccezionali ancora. Gli manca Militao. Alaba non ha giocato Carvajal oggi. Ma non hanno un centravanti il Real Madrid. Voi pensate all'anno prossimo sto Real Madrid con Bappé. Perciò io quello che voglio dire è che il calcio resta dei giocatori. Io mi diverto soprattutto quando vedo queste partite. Mi piace vedere tutte le partite. Io perché le guardo tutte. Però mentalmente sempre pensando alla testa di quello che sto guardando. Se sto guardando la serie C è questa. Se sto guardando la serie B si sa cosa vado incontro. Se sto guardando la serie A per intensità, qualità nei piedi, qualità nella testa so cosa vado a vedere. Se guardo la Juve in questo periodo storico so cosa sto andando a vedere. Perciò ci vuole questo. Se mi guardo Real Madrid-Bayern o Real Madrid-City o Bayern-Monaco-Arsenal sapevo quello che ho visto in campo e quello che sarebbe successo. Questo è il calcio. Il calcio non l'ha inventato nessuno. Il calcio è dei giocatori. Il calcio è dei calciatori. Il principio ci può essere. Ma la palla di cross la dà cross? E forse nessun altro. La palla di Modric con quel mezzo esterno la dà Modric e basta. Quel tiro dove si sposta cross nel secondo tempo. La coordinazione l'ha pensata un tre secondi prima e non ha fatto un altro controllo. L'ha tirata con quasi il difensore davanti. Quelle sono qualità che hanno i giocatori. Poi qualcuno mi può venire a dire Sì, ma se non c'è giocatori ci vuole il gioco là? È certo che ci vuole il gioco. Un principio di gioco. Ma quando un mio giocatore va in profondità la palla di Locatelli non arriva mai. E il giocatore che va in profondità si rompe le palle di andare sempre in profondità sapendo che i suoi compagni di squadra alle sue spalle non sono in grado di fare dei passaggi illuminanti. E non sto parlando di Juve. Sto parlando in generale di quelli che parlano del gioco fantascientifico dove bastano i giocatori vi ricordate ad anni, no? Con il carro dei Gabbiani è da quattro mesi che il carro dei Gabbiani si è fermato a metà strada. Perché? Perché Caicedo e McAllister erano un'altra cosa rispetto agli acquisti rispetto a quello che sta vedendo in campo poi infortuni. Basta avere un piano B basta saperti un po' coprire perché se no prendi i batoste ora le frecce non sono più 10 contro 4 ne tira solo una partita. e allora poi ci vuole coerenza e mi dispiace per un allenatore grande come De Zerbi si è fatto trascinare da questa narrazione perché poi le frecce sono diminuite verso la porta avversaria e allora la qualità dei giocatori conta sempre tanto. Poi per tanti non è così per quelli che ci guadagnano non io per quelli che ci guadagnano sul web che vengono invitati da giornali da Adidas che spalano merda su tutti e poi sorridono anche se la Juve non vince e gioca di merda pensate un po' come siamo messi perciò detto questo viva il calcio quello vero ma il calcio quello vero è quello che abbiamo visto anche stasera perché ricordo che chi mette le cuffie vuol far sembrare tutto tutto scienza si sbaglia perché intanto non fa lo stesso lavoro di chi allena in Serie A e non parlo di Allegri viene criticato Pioli insultato vengono dati dell'incapace dei professionisti del mestiere di questo sport dove noi tutti siamo seduti al massimo a poter dare delle visioni delle opinioni del modo di pensare di discussioni non di certezze quando la gente comincia a dire che quella persona è un incapace un incompetente per un calcio ad alto livello e lui sta dietro al computer nella propria cameretta ad insultare dallo stadio l'allenatore con i braccialetti gratis per entrare allo stadio capisci bene che a loro della Juve del calcio degli schemi dei principi delle godure delle sconfitte se sbattono veramente le palle detto questo buona serata se mi volete seguire mi seguite altrimenti io me ne faccio una ragione non devo letcare il culo a nessuno come fanno altri che leccano il culo a giornalisti così per crescere perché vogliono guadagnare questi social la cosa che vi posso dire solo è che sicuramente sbaglio sicuramente non ne capisco sicuramente magari per tanti questo video è totalmente una cazzata ma non è un problema Frank è questo dietro la telecamera e davanti alla telecamera dico quello che penso senza mezze misure senza scopo di lucro senza voler lucrare o prendere per il culo chi mi ascolta perché il mio pensiero come tutti i video che faccio è ciò che penso senza farmi distrare dalla massa o da chi vuole portare certi ragionamenti in altre direzioni buonanotte sempre forse il calcio quello che abbiamo visto stasera perciò io da Juventino mi auguro sì il cambio di allenatore mi augurerei una decina di innesti di alta qualità piedi testa cuore anima e voglia di vincere ciao a tutti